Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione della telegiornale di TRMH24. In primo piano la cronaca, orrore a Casarano in provincia di Lecce, una 26enne è stata trovata morta sul balcone di casa. Sentiamo. E' giallo sul ritrovamento del cadavere di una ragazza di 26 anni a Casarano in provincia di Lecce. Il corpo della giovane impiccato a una sciarpa, una pensilina del balcone di casa, è stato scoperto ieri mattina dai carabinieri dopo una telefonata al 112. La 26enne, originaria di Ugento, si era trasferita da poco nel vicino paese salentino. La sciarpa che la ragazza aveva intorno al collo è quella del Casarano Calcio. I carabinieri hanno portato in caserma un conoscente della 26enne come persona informata sui fatti, che frequenta gli ambienti ultras del Casarano. La prima ipotesi sull'accaduto è che si sia trattato di suicidio, ma sono in corso indagini anche perché in casa sono stati trovati alcuni oggetti rotti. Sul corpo della ragazza non ci sarebbero segni di violenza. Sul posto, insieme ai militari dell'arma, è intervenuta anche la polizia scientifica. La salma è stata trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce ed è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. La casa in cui è stato ritrovato il corpo della 26enne è stata posta sotto sequestro. Ancora cronaca, una bimba di 6 anni è in coma ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di uno shock settico provocato da una grave infezione. Il personale sanitario sta facendo tutto il possibile per salvarla, ma le sue condizioni vengono definite disperate. La bimba è stata portata in ospedale ieri pomeriggio dai genitori. Per altre gravi patologie nella stessa rianimazione ci sono altri due bambini di 4 e 8 anni in Salento. A quanto si apprende, manca un'area di terapia intensiva pediatrica e l'assenza si sente soprattutto in questo periodo in cui sta aumentando l'incidenza dei ricoveri. Un uomo di 51 anni di nazionalità kossovare è morto alle prime luci dell'alba di domenica 7 gennaio a bordo del traghetto Riegel 2 partito da Durazio diretto a Bari dove è arrivato alle 8.30. L'uomo ha avuto un malore che ha provocato un arresto cardiocircolatorio. A dare allarme sono stati i familiari della 51enne sul molo del porto di Bari oltre al personale della Capitaneria di Porto e della Polizia di Frontiera è intervenuto anche il personale dell'Ufficio di Sanità Marittima, Area e di Frontiera. La salma è stata consegnata ai familiari che stanno organizzando il rimpatrio. Ancora cronaca lo sportello Bancomat dell'Ufficio Postale di Stornara in provincia di Foggia è stato fatto esplodere la scorsa notte con un ordigno rudimentale. Sono in corso indagini per risalire a chi abbia piazzato l'esplosivo. I malviventi non sono riusciti a portare via il denaro del postamat. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Cambiamo argomento. L'azienda sanitaria locale di Potenza realizza un significativo recupero crediti grazie a una convenzione con l'Agenzia delle Entrate che ha portato al recupero di circa 300 mila euro di ticket sanitari non pagati per gli anni 2014-2015. Un'efficace azione di recupero crediti è stata portata a termine dall'azienda sanitaria locale di Potenza in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Questa iniziativa ha permesso infatti di recuperare circa 300 mila euro relativi ai ticket sanitari non riscossi per le prestazioni degli anni 2014-2015. Il processo è stato avviato grazie ad una convenzione siglata a giugno 2022 diretta dall'allora direttore Giampaolo Stoppazzolo. Numerosi cittadini, dopo aver ricevuto gli avvisi bonari e accertato la loro debenza, hanno spontaneamente versato le somme dovute, beneficiando anche della possibilità di rateizzazione. Il recupero ha avuto un notevole incremento nei mesi di novembre-dicembre del 2023, evidenziando l'efficacia degli sportelli informativi attivati sull'intero territorio aziendale. Questi sportelli hanno fornito assistenza e informazioni essenziali per il pagamento delle somme dovute. Il DG dell'Asp, Antonello Maraldo, ha confermato l'impegno nell'offrire massima collaborazione chiaramente ai cittadini, mantenendo attivi gli sportelli informativi. Il processo di recupero proseguirà anche per l'annualità 2015 e per parte del 2014, riguardando i soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sanitarie in regime di esenzione e che a seguito di controlli incrociati non risultano in possesso dei requisiti per l'esenzione. Sono stati inviati avvisi per regolarizzare le prestazioni sanitarie anche a soggetti che erano minorenni nel 2014 e a quelli che hanno beneficiato di prestazioni negli anni successivi. E a Matera continua a far discutere il progetto Parco del Campo. Sentiamo. Non sono mancate di certo le polemiche dopo la presentazione da parte della Comune di Matera della progetto Parco del Campo, stadio 21 Settembre, Franco Salerno. Tra le ultime, in ordine cronologico, quelle contenute nella nota di Eustachio Follia, coordinatore regionale Volt Basilicata, il quale pone l'accento su quella che è stata, a suo parere, una oggettiva mancanza di rappresentatività e coinvolgimento della comunità nel processo che ha portato alla definizione della soluzione definitiva. A maggior ragione, dice, trattandosi di una simbolo per Matera, una cattedrale che riflette l'identità e i valori di un popolo. Perché, per esempio, suggerisce Follia, non integrare le funzioni dello stadio con l'area della ex Barilla, con una serie di altre attività collaterali, culturali e di intrattenimento. La preghiera che il numero uno di Volt rivolge agli amministratori è quella di fermare il progetto ed aprire il confronto. Non meno piccato è il messaggio inviato da Pasquale Doria, consigliere comunale di opposizione in forza a Matera Civica, il quale chiede conto, innanzitutto, degli evidenti ritardi che hanno portato all'adozione del primo concreto atto amministrativo solo il 5 dicembre 2022, posto che la data di assegnazione del finanziamento della PNRR, 12 milioni e 650 mila euro, risale al 30 dicembre 2021. I tempi residui per l'inizio dei lavori, puntualizza, ora sono davvero ristretti e si rischia la perdita dei finanziamenti. Poi anche lui sul tema della partecipazione sia dei cittadini che di quella di tecnici e ordini professionali al fine di superare le numerose criticità già rilevate nel progetto di fattibilità tecnico-economica. Tra queste la finalizzazione dell'area e delle strutture per lo svolgimento delle competizioni calcistiche e di altri sport come schermo e pallavolo. Altra questione di assoluto rilievo, da definire meglio, conclude Doria, è l'interconnessione con il quartiere Piccianello e con il resto della città, aspetti che riguardano le dichiarate finalità di rigenerazione urbana e riduzione delle condizioni di emarginazione e degrado sociale che il finanziamento PNRR esige. La pioggia salva la Puglia dalla siccità, ma ora è allarme gelo il punto, l'ha fatto la Col di Retti regionale. Ascoltiamo. L'arrivo della pioggia salva la Puglia dalla siccità dopo il caldo anomalo di inizio inverno che ha provocato i primi sintomi di stress idrico facendo scattare il campanello d'allarme nelle campagne. E' quanto denuncia la Col di Retti Puglia che ha monitorato gli effetti della perturbazione che sta portando precipitazioni intense ed anche un brusco abbassamento delle temperature. Il maltempo è un dato positivo per gli agricoltori, spiega l'associazione di categoria, ma per essere di sollievo la pioggia deve durare a lungo, cadere in maniera costante non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente, provocano danni. Anche il freddo è necessario per fermare le popolazioni di insetti dannose per le colture che potrebbero sopravvivere e svernare per attaccare i raccolti nella prossima primavera. Importante però, precisa la Col di Retti regionale, che il cambiamento sia progressivo senza ondate di freddo estremo e gerate improvvise, ma anche manifestazioni violente che distruggono le coltivazioni e le infrastrutture perché l'agricoltura in Puglia ha pagato un conto salato nel 2023 con 96 eventi estremi che hanno causato la perdita del 34% in quantità della produzione. Cambiamo argomento, Lotteria Italia, ci sono anche Puglia e Basilicata tra le regioni baciate dalla fortuna, 10 biglietti vincenti di terza categoria dal valore di 20 mila euro venduti in Puglia, 2 in provincia di Foggia, a Manfredonia e Monte Sant'Angelo, 4 biglietti fortunati venduti nella provincia Batta, Margherita e Savoia, San Ferdinando di Puglia, Andrea e Bisceglie, mentre altri 4 sono stati venduti in provincia di Bari, a Polignano, Putignano, Modugno e Trigiano, 5 le vincite da 20 mila euro registrate in Basilicata, una a Potenza, 3 nella provincia del capoluogo Lucano, a Paterno, Rionero in Vulture e a Melfi. Un biglietto vincente è stato venduto invece a Matera. L'estrazione finale è avvenuta nella serata di ieri durante la puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Amadeus e Nonda su Rai 1. I cinque premi principali sono andati a Milano, il primo premio per una vincita di 5 milioni di euro, nel Salernitano il secondo premio da 2 milioni e mezzo di euro, poi altre vincite milionari nelle province di Pavia, Brescia e Rimini. Turismo, pochi stranieri negli agriturismi pugliesi durante le festività natalizie, ma la ristorazione in campagna ha fatto sold out il servizio. Pochi stranieri in Puglia in queste feste natalizie è il dato messo in evidenza da Conf Agricoltura Puglia. La presenza di turisti stranieri negli agriturismi pugliesi ha registrato infatti un calo significativo rispetto agli anni precedenti, a causa delle poche iniziative promozionali e culturali organizzate dal territorio. È andata bene invece la ristorazione nelle masserie, nelle dimore di campagna, dove si è registrata una buona affluenza e il sold out nei giorni tipicamente rossi di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno e Befana. Per Luca Lazzaro, presidente di Conf Agricoltura Puglia, e Giovanni Scianatico, presidente di Agrituris Puglia, il calo di attrattività è un dato preoccupante che evidenzia la necessità di rilanciare il settore turistico pugliese, valorizzando le sue potenzialità e la sua diversità. L'evoluzione delle preferenze dei turisti è evidente, proseguono non più l'approccio tradizionale di affollati adunate, ma un interesse crescente per luoghi meno affollati e itinerari fuori dalle rotte turistiche convenzionali. Dai dati emerge che c'è una chiara spinta verso un turismo più intimo e su misura, dove il relax e la tranquillità sono protagonisti e concludono, anche le nostre previsioni per il 2024 indicano un fortissimo interesse per il turismo rurale, ma se la Puglia vuole giocare un ruolo importante non solo d'estate, deve ampliare la propria offerta di eventi invernali. Domenica 7 gennaio caratterizzata dai musei aperti e gratis per tutti, anche a Bari, numerosi i turisti e i baresi che hanno scelto di trascorrere la propria domenica tra arte e cultura. Torna puntuale l'appuntamento con i musei gratis nella prima domenica del mese, un'occasione per famiglie e turisti di visitare luoghi d'arte e cultura, accedendo gratuitamente a musei e ad aree archeologiche, come il Castello Svevo di Bari, che richiama sempre numerosi visitatori, curiosi di visitarlo per la prima volta, o felici di ritornarci. Sappiamo che ogni domenica, il primo del mese, i musei del territorio sono gratis. Vediamo se c'è una nuova mostra, perché abbiamo già visitato il castello l'anno scorso e c'era una bellissima mostra dentro. Veniamo per vedere se c'è qualcosa di nuovo. Da dove venite? Dalla Francia. Abbiamo deciso di approfittarne, abbiamo anche ospiti dall'Australia, dunque ci è parso il giusto fargli vedere questo monumento, che fortunatamente è stato reso più accessibile, anche in forma gratuita, ed è un'iniziativa importante, penso. Siamo di giovinazzo, ci siamo già stati, ma è sempre un piacere, esserci l'abbiamo fatto vedere ai bambini e a questi parenti che ci hanno raggiunto dall'Australia per le vacanze natalizie. Abbiamo fatto un giro un po' delle chiese che celebravano la messa oggi. Siamo stati nella chiesa russa e a coronare la giornata facciamo una visita al castello. Di dove siete? Io sono di Bitritto e la mia ragazza è di Perm, Russia. Oggi abbiamo mischiato un po' le culture, abbiamo fatto una domenica culturale e religiosa. Ho già stato qui due anni fa, però non mi ricordo bene, quindi volevo vederle un'altra volta. Mi ricordo che c'è una videopresentazione e la voglio rivedere. Questo mi piace molto. Io sono italiano nato all'estero, sono nato in Argentina. Restiamo a Bari, si chiude al Museo Civico la prima personale di Filippo Rignolo dal titolo Fiere. Al centro le donne filosofe e non solo, il servizio. Al centro le donne filosofe, Fiere, che hanno cambiato con le proprie azioni il corso della storia, anche se spesso costretti a vivere nell'ombra di uomini potenti. Si conclude al Museo Civico di Bari la prima personale dell'artista romano Filippo Rignolo dal titolo Fiere. Nell'ambito della stessa mostra anche la sezione Eleison. Siamo molto orgogliosi di questa produzione del Museo Civico che conclude le attività del 2023 e che anticipa tutta quella che sarà la programmazione delle attività culturali del 2024. La mostra Fiere di Filippo Rignolo curata da Claudia Timonelli è una mostra che racconta dieci importanti figure di donne del Novecento e si compone anche di una seconda sezione che è una sezione fatta di vere e proprie madonne, madonne contemporanee, di donne che scappano dalla guerra, donne migranti, donne che difendono i propri figli nella speranza di un futuro. Ed ora il Museo Civico si prepara già ad accogliere nuove esposizioni ed iniziative culturali ed artistiche per il 2024. Quest'anno inizieremo con l'apertura al pubblico già dal prossimo vercoledì con una nuova mostra di un artista albanese Dulicaia che è un albanese giunto in Italia nel 1992 nello stesso anno della Valora che ha vissuto questi trent'anni a Roma aprendo un atelier di sartoria anche molto importante e si considera un sartoartista. Ieri a Fasano i Re Maggi hanno sfilato per il Centro Storico distribuendo ai bambini peluche a forma di animali e segnalibri tematici nell'ambito delle celebrazioni natalizie del cinquantesimo anniversario dello Zoo Safari. In occasione dell'Epifania i Re Maggi hanno percorso le strade del Centro Storico di Fasano distribuendo doni ai bambini presenti. L'evento fa parte delle celebrazioni del Lucidi Natale a Fasano The World of Animals un progetto promosso dal Comune ideato da Euforica e realizzato da Paolicelli per commemorare il cinquantesimo anniversario dello Zoo Safari. La sfilata che ha visto la collaborazione dell'Associazione Culturale Presepe Vivente di Pezze di Greco si è conclusa presso la Chiesa Matrice. I Re Maggi hanno distribuito peluche a forma di animali donati dallo Zoo Safari e segnalibri educativi riguardanti l'importanza degli animali per l'ecosistema e il pianeta. L'evento si ispira ad un antico proverbio del Sud Italia che narra come nella notte dell'Epifania gli animali possano parlare. Il programma Lucidi Natale a Fasano The World of Animals realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo la Regione Puglia lo Zoo Safari e l'Unione Italiana Ciechi e i Povedenti include anche un'installazione luminosa a tema animali nel Centro Storico visitabile gratuitamente fino al 13 febbraio. Queste luci composte da lampadine LED a basso consumo energetico hanno attirato migliaia di visitatori creando un'atmosfera unica durante il periodo natalizio. Lo Zoo Safari inaugurato il 27 luglio del 73 è oggi il più grande parco zoologico in Italia e il secondo in Europa. È riconosciuto per la sua varietà di specie animali e la rappresentazione di diversi habitat nei suoi 140 ettari. Il parco è anche un centro di conservazione, ricerca e studio della fauna selvatica collaborando con università e centri di ricerca internazionali. A Matera Epifania con il secondo appuntamento della rassegna Basilicata opere in atto della Camerata delle Arti. Sentiamo. Le atmosfere sinfoniche dell'Ottocento hanno caratterizzato l'Epifania a Matera con i Romantici d'Europa. Questo è il titolo del concerto all'Auditorium Gervasio secondo appuntamento della rassegna Basilicata opere in atto della Camerata delle Arti. Sul palco l'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata diretta dal maestro Francesco Zingariello e ancora Roberto Traenini figura di spicco del panorama violoncellistico internazionale. Ascoltare un concerto sinfonico così importante soprattutto nel repertorio non è proprio usuale per questo territorio. Infatti stasera eseguiamo l'Overture dal franco cacciatore di Webern e il concerto per violoncello orchestra di Dvorjak. Sono due grandissimi capolavori delle pagine sinfoniche dove l'orchestra è pienamente impegnata e dove ovviamente il solista d'eccezione questa sera Roberto Traenini tirerà fuori tutta la sua classe e il suo talento e il suo talento quindi prima volta con l'orchestra sicuramente sarà un ensemble che darà corpo ancora maggiore alle sue capacità speriamo dai cerchiamo di divertirci stasera dai ma sarà sicuramente un grande concerto perché Roberto come tutti i grandi è veramente molto così non dice quello che è ma lo dice con lo strumento quindi sono sicuro che chi sarà presente al concerto si diverterà molto e a Ferrandina al teatro Amimi sono andate in scena le colonne sonore per film sentiamo il 2024 di Amimi Teatro Festival Ferrandina si è aperto in musica con le colonne sonore della cinema italiano a proporre questo viaggio in nota è stato il quartetto Saverio Mercadante diretto dalla maestro Rocco De Bernardist alcune colonne sonore rimangono memorabili nella storia della cinema e alcuni sodalizi celebri tra compositori e registi sono diventati tratto distintivo della filmografia di questi ultimi Bernan Herman per Alfred Hitchcock Nino Rota per Federico Fellini Agno Morricone per Sergio Leone per Giuseppe Tornatore John Williams per Steven Spielberg e Nicola Piovani per Roberto Benigni in questo spettacolo il quartetto Mercadante che ha visto Leo Binetti al pianoforte Gian Paolo Caldarola al sassofono Baritono Rocco De Bernardis al clarinetto e Antonio Mambelli alle percussioni ha proposto alcune delle più belle colonne sonore dei capolavori della filmografia italiana in questo quartetto percussioni sassofono baritono clarinetto e pianoforte è più duttile riusciamo come dire ad essere un po' più sì duttili quindi ovviamente sono stati fatti degli arrangiamenti ad hoc per questa formazione funziona abbastanza bene chiaramente avere un'orchestra che suona le musiche di Moricone sarebbe voglio dire grandioso l'Italia è sicuramente il paese più importante al mondo per la produzione di musiche per film vabbè su tutti Agno Moricone presto il quartetto tornerà a Ferrandina per omaggiare un altro grande della musica cantautorale italiana verremo qui con uno spettacolo molto bello su Di Andrea con il mio amico ma anche il vostro amico Sebastiano Somma presentato nella sede della CGL di Potenza il libro dal titolo da Galeotto generale autobiografia del partigiano Alessandro Baia vediamo militante e dirigente comunista Galeotto nelle carceri fasciste comandante partigiano della resistenza nel centro sud Italia fino ad assumere la direzione del comando piazza che contribuì in maniera determinante alla sconfitta del fascismo il 25 aprile del 1945 a Milano tra i fondatori dell'Ampi fu costruttore del PCI in clandestinità prima poi nell'immediato dopoguerra e fino agli anni settanta diventando uno dei dirigenti nazionali più autorevoli e prestigiosi del movimento comunista italiano in sintesi in sintesi la storia di Alessandro Baia la cui vita è stata raccontata in un libro dal titolo da Galeotto a Generale il volume è stato presentato nella sede della CGL di Potenza in un confronto e dibattito organizzato in collaborazione con la sezione dell'Ampi provinciale e dall'edizione ai rapporti sociali che hanno stampato il volume un'occasione che è diventata spunto di riflessione sull'attualità e sull'antifascismo di oggi Lo spirito di questa iniziativa è quello di fare una discussione perché i temi della battaglia allora sono i temi che in modo diverso ovviamente noi ci ritroviamo come dire a riproporre rispetto a un governo di destra che sta facendo delle politiche ecco di arretramento dei diritti sociali del nostro paese Alla presentazione sono anche intervenuti il segretario generale dell'ospici GL Basilicata Angelo Summa Antonio Cosentino dell'Ampi provinciale Potenza Igor Papaleo direttore di edizioni e rapporti sociali e Piero Scutari figlio della partigiana Bruna Dradi cui è dedicata alla sezione provinciale potentina dell'Associazione dei Partigiani La testimonianza che mi ha lasciato mia madre effettivamente la ritrovo molto in questo libro perché è la testimonianza di persone di giovani di donne di uomini che hanno veramente combattuto e hanno messo a rischio la loro vita per un ideale di libertà per la speranza di una società più giusta più equa Calcio è finito in parità uno a uno allo stadio Via del Mare di Lecce l'anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra la formazione Salentina e il Cagliari al gol del vantaggio giallorosso firmato alla trentunesimo da Gendré di testa su calcio d'angolo battuto da Oden ha risposto nella ripresa al sessantottesimo Oristanio la sua deviazione su calcio piazzato battuto da Viola ha oltrepassato la linea di porta nonostante la respinta di Falcone grazie al punto conquistato la squadra di D'Aversa chiude il girone d'andata a 21 punti momentaneamente a più 7 dalla zona retrocessione basket la Virtus Matera ha festeggiato l'epifania con la vittoria per 82 a 69 in casa sul Franca Villa nella gara per la dodicesima giornata del campionato di Serie C giornata resa particolare dalla partecipazione del pubblico del Palasassi che ha aderito all'iniziativa dal titolo Teddy Beer Toss nella sua prima edizione come si vede anche dalle immagini al primo canestro su azioni gli spettatori hanno lanciato in campo una balanga di peluche da donare alla Caritas e alle parrocchie di Matera e con questa notizia si chiude il nostro telegiornale di oggi grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata grazie per averci